Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Smiro & Mamb Oggi cosa faremo Smiro? Oggi faremo una terza reazione a Baby Amici Fritz Ovviamente ci siamo iscritti, fatelo anche voi ragazzi, iscrivetevi tutti quanti al suo canale Perché altrimenti fate piangere il suo piccolo pupazzino, il suo piccolo mino di pan di zenzero Villi Abbiamo scoperto che si chiama Villi E abbiamo scoperto anche il vero nome di Baby Amici Fritz Ecco, sì, proprio lui, abbiamo scoperto il suo vero nome, andatevi a guardare quel video Ha fatto dei nuovi video, ad esempio questo, indovino un quiz in tv Vediamolo Più che un video dovrebbe essere uno short, dura 41 secondi Ah, ma è un quiz di... di Ploppi... di Ploppi... insomma di quello di Akiwagi Di Poppy Playtime, è quello Ah, quindi devi indovinare il mostro dalle emoji È Cutnap, è Cutnap Sì, anche secondo me è Cutnap Eh, è lui, è Cutnap No Sì, è Cutnap Ehm... No piccolo... no fratellino... è l'altro Cutnap Questo è il fratellino di Baby Amici Fritz eccolo catnap monster eh si è catnap lo vediamo che è catnap questo è quello nightmare è catnap una storia inventata da me a 4 anni vediamo e chi sarebbero? e chi sarebbero? ok sì sì abbiamo capito che sono andati a vedere i mostri che ho amicontato il mostro di fuoco e ti erano mangiati sì Leonardo, Lorenzo e Vincenzo si sono mangiati il mostro di fuoco e il mostro di ghiaccio e il mostro di ghiaccio e il mostro di foco si sono mangiato Ronaldo ok si è mangiato Donato il mostro di fuoco ha mandato Vincenzo Vincenzo e la mummia si è mangiato Lorenzo la mummia si è mangiato Lorenzo e poi si sono andati Cioè, i genitori sono andati a pagare per uccidere i loro figli. Ma che razza di storia è? Speriamo che non incontreremo i mostri. E poi era un disastro. Mi ho combattuto tutti i mammi e i papà. Ti papà mi ho combattuto tutti i mostri. E i mostri erano troppo forti. E' ovvio che erano troppo forti. E poi il resto gli voglia. E' tagliato tutti la testa. Cioè, i genitori hanno pagato per uccidere i figli. Cioè, fatemi capire. I genitori di Leonardo, Lorenzo e Vincenzo hanno pagato per uccidere i mostri. Cioè, per uccidere i loro figli. Ma che razza di storia è? Come sempre guardiamo anche gli shorts. Perché anche loro meritano di essere guardati. Però quelli di Baby Amici Fritz sono dei mostri. Guarda quante visualizzazioni hanno fatto. Oh mio Dio! Ma questo precisamente che short è? Vediamo. Io e te. Ok. Cerchiamo il mondo quando siamo insieme. Che cavolo! Cioè, sta cercando di prendere una polpetta. Non so che c'entra la canzone di Mr. Rain, però... E ci sono anche quelli di Gartner Bambam. Ciao ragazzi! Ciao! Ma quanti shorts ha fatto? Però è bravo a suonare lui. Anche se sta facendo palesemente a caso. E quest'altra bambina chi è? Ok, qui c'è Spider-Man. Dobbiamo spaventarci? Eh, non lo so. Ho conosciuto Spider-Man Game. Sì, immagino quanto è vero quel signore travestito. Vediamo questo. Uno. Due Tre Supero gara di corsa. Quattro Cinque Ma che fa? Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dodici Ma? Tredici Che fa? Quattordici Quindici Sedici Diciasette Che fa? Diciotto Diciano Uno In diciannove secondi. E qua invece Il ballo di Bambam. Che c'entra per Pol de Rainbow Fiance. Comunque da notare che hanno la felpa di Gattelor Bambam. Eh, infatti ci sono i sei personaggi principali. E qua invece Sette Sette Mi farò vedere Che fa? Mi farò vedere Una prova E I tatuaggili E Mi farò vedere Scheletri Scheletri E Spinto di Allora Ma non sono tutti Di Gattelor Bambam. Bene i tatuaggi Bene ragazzi Il video finisce qui Mi raccomando Fateci sapere se vi è piaciuto E iscrivetevi Sia al nostro canale Che a quello di Bambam. Noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Sia al nostro canale